Bello, bello, bello! Che bellissimo! Wow! Oh madonna, madonna, madonna! Prendiamo quattro sete! Abbiamo noi una bella cosa! Ragazzi, ragazzi! Guarda questo! Aspetta, aspetta! Sono pronto, sono pronto! Piero, per te... Madonna mia, cosa c'è qua? Ma queste non sono i... Ci papi e cicici! Ci papi e cicici! Ci papi e cicici! Ci papi e cicici! Per lui, uno, due, tre! Ohhhh! Uno, due, tre! Ohhhh! Uno, due, tre! Vai, vai, vai! Ohhhh! Uno, due, tre! Uno, due, tre! Vole, tre! Ciao belli! Siamo andiamo! 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 La musica è molto buona! Il mio amore è molto buona! Siamo andiamo! Siamo andiamo! Siamo andiamo! Siamo andiamo! Ehi, da qua si poteva scendere! Ciao Croazia! Facciamo un vlog ora, abbiamo cambiato il telefono Siamo qui in Opazia, è un'amissima Croazia Ci siamo già qui, qui, qui e qui E ora qui L'aria fresca, fare già la festa Tornerò, tornerò Amore vai presto, io non resisto Se tu non arrivi, non resisto Non resisto, non resisto Marina, Marina, Marina Ti voglio più presto sposar So darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand by me Oh, stand by me No, 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 no No, 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 no And then No, no I cannot go Zrino You have This is best for Believe me this is best Hey, ceva, pecicis, tomato so now I take you with me what are you doing Amadeo? yeah I'm gonna have a bath so in Estiora brother house we have a nice whirlpool so Amadeo is ready for a nice whirlpool here Amadeo has a wide turn look at this Amadeo is already so old old yes old yes let's do it yeah have fun Amadeo relax okay Amadeo relax play and play a little bit play and play a little bit play and play a little bit oh yeah ciao Michi TikTok blocked our life while I was taking a bath and I just relax I was just relaxing and playing with my ball that Mimo gave me so I don't know what the problem is Mimo you is finished we got blocked on the live stream no 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 it's not finished it's not finished it's not finished no problem I am blocked with you no Yeah tao oris ay 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 ya en donde ya ya Müsa ya dove? dove? veni in la sala cosa vuoi? cosa vuoi? cosa vuoi? fratelli, cosa stai? noi siamo... non, 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 non come cosa vuoi? se cammini... si! ... Ciao, ciao, ciao We arrived here Belgrado I'm hungry In Belgrado, Belgrado This is stunning